E' arrivato il momento di Antonio D'Angelo Che carino, che carino Buonasera, buonasera Belen Ciao Antonio, ben arrivato Buonasera, sono la Cosenza, Gerry Gerry Non è che è Gerry per questo? Vabbè, è una cosa nostra Io sono molto emozionato di essere qui oggi a Cuschiabarsi Perché per me è un'emozione oggi essere qua Cari giudici, per voi dopo vedrò tutto Vai, la base Sono cantante Mi chiamo Antonio Ho 33 anni E di professione faccio il barista E poi la professione del mio canto Ciao